il culto delle acque in sardegna e questa la suggestione che mi ha portato a creare questa prima puntata di santu di orge isola della bellezza seguitemi in questo viaggio nella bellezza credo di avere una ipotesi sui centenari ogliastrini sanno vivere mentalmente bene amano il bello come si vede dalle loro costruzioni perfette intonate nei terrazzamenti bella zente guru l'ogliastrino ha un suo stile mentale che tende alla condivisione di beni e affetti alla mutua assistenza come antica legge sociale dei sardi questa coesione sociale nel suo aspetto religioso secondo me si esprime nel culto dei grandi santi eroi della sardegna qui parleremo di san saturno quello delle terme di benetutti qui oltre il bellissimo stabilimento aurora le antiche vasche termali che dicono romane ma a mio avviso sono nuragiche sono nascoste a tutti e solo i risperti vi sanno andare eppure un tempo non era gossì mira di tu un signore che si chiama mario quest'uomo aveva una cava di granito a olbia un giorno gli cade addosso un masso sulle gambe e gliele rovina per sempre poi ha avuto anche poveraccio un disastro aereo per fortuna se l'è scampata con un aereo della meridiana e il suo danno alla spalla lo porta a curarsi alle terme di benetutti allora cosa succedeva che si sentiva parlare di queste acque termi perché quest'acqua ha dei particolari sali e sulfurei sono molto idone se uno non si trova bene non ci viene qua ecco questo che le voglio dire io che la gente qua venivano tutte fatte dell'italia noi non abbiamo mai dato un valore di queste cose ma lei sa che quest'acqua è molto buona che questi fanghi sono molto buona io ti dico ancora una cosa qui io ci sono andato mi hanno raccontato mi sembra che ci sia anche mia moglie non lo assicuro c'è una roccia che fa un piano che c'è l'acqua che è molto calda che è una cosa incredibile qua vicino vicino non so dov'è qualcuno che è vicino qua vabbè cercheremo di rubarla prima o poi dici che è molto molto calda la ragione di chi su programma è dimostrà che la storia salda si comprende assai meglio cura tradizione la buesia la religione su connoto tramandato di macro indigenti che i libri di gloria abbiamo potuto realizzare riprese di questa puntata grazie all'aiuto di molti amici alcuni del posto che si sono prodigati nel darci informazioni su luoghi inaccessibili altri che ci sostengono come sponsor per il nostro lungo viaggio ci muoviamo con una citroen della concessionaria con fallonieri di sassari io sono un asino isideo calzato da mario lambroni e vestito da antonio fanari con uno zaino in pelle troppo figo di alchimilla per mangiare non abbiamo mai problemi io il mio assistente ilario e la mia piccola jana veronica l'equipe di lavoro di santu georghe alla gastronomia ristorante la genuina antonello ci ha dato un assaggio abbondante delle sue specialissime specialità le terme aurora ci hanno ospitato per una notte e invitato a cena l'ultimo regalo che ci è arrivato è questo bellissimo leppuzu utilissimo in viaggio della storica coltelleria sassarese dell'arrotino nella prossima puntata parleremo ancora di culto delle acque grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti